Ciao a tutti! Oggi è la giornata speciale perché oggi è la festa di papà! Tutti i papà del mondo, dobbiamo fare un regalino per papà! Oggi faremo un video per papà! Io e Noemi! Noi e il nostro papà lo amiamo! Lo amiamo tantissimo! Vienerissimo! Ti amo papà! Ti amo papà! Iscrivetevi al canale Cavaleri Family e mettete un like! Adesso ragazzi vi lascio al video! Ciao a tutti! Papi, papi! Allora tu prima stai là, io ti chiamo! Papi, papi dove sei? Ma dobbiamo fare l'intro! Dobbiamo fare l'intro? Ia, li, li, li! Ma quelli sono i miei contro te! Ma noi siamo i cavalleri Family, vieni qua! Vengo! Ciao a tutti! Scusami, ma hai piazzato la telecamera tu? Eh sì! Cioè dobbiamo fare il video che hai fatto tu? Eh sì! Noi siamo i... Cavaleri Family! Eh scusate Noemi non ci aspetta! Noemi dove vai? Dobbiamo fare il video! C'è pazzesco! Aurora ha montato la telecamera con Noemi e stiamo facendo un video! Non so di cosa... Allora! Ma di che parla sto video? Vabbè vedremo, vedremo! Noi oggi faremo un video! Partito! Andiamo in camera di mamma e papà, portiamo la telecamera e facciamo un gioco a turno tipo... Noemi scegli un gioco, facciamo il pesciolino dance, mettiamo la musica, Alexa, dormitorio, e poi scelgo io, poi scelgo Papi, poi scelgo Noemi... Cioè dobbiamo fare... Puoi scelgo... Il gioco della musica! Ecco! E poi io dico stop e fermi! Ma che stai facendo? Non c'è la musica! Ah no, io già mi stavo fermando, ma c'è la musica! Ok, adesso ci vediamo di là! Siamo pronti? Sì! Ok, il nome sta passando da là! Ma che stiamo combinando? Vabbè andiamo di là, vabbè, 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 vabbè! Allora siamo qua in stanza, la mamma non vuole venire! Perché non vuole venire? È perché sta parlando al telefono! Ah, ok, impegnata! Allora, siete pronti a iniziare? Ma che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo giocare! Noemi, quale gioco vuoi iniziare? Pesciolino! Allora, vuoi ballare? Sì! Ok! Tutti in piedi! Tutti in piedi? Dobbiamo mettere la canzone del pesciolino! Pesciolino dance? Ok! Abbiamo la nostra mitica Alexa! Ma Alexa, non c'è il pesciolino dance! Chi te l'ha detto? Io! Chiamando, riproduco il brano pesciolino dance! Sì! Sì! Pesciolino dance di Fabio Cobelli su Amazon Music! Allora, c'è! Via! Stop! Via! Ma no, ma stiamo scherzando! Siete pronti quella con il pesciolino dance! Adesso decide, papà! Decido io che cosa? Il gioco! Scusa, ma allora devo decidere io adesso? Sì, papi! Devo decidere io! Dai! Eeeh! Faccio un gioco bellissimo! Il gioco dei... Colori! Io vorrei fare un gioco bellissimo! Cioè cosa? Dire il nome di un animale... Ecco! E loro mi devono dire quest'animale con quali colori è fatto! Ok? Ok! La zebra! Quanti colori ha? Bianco! Poi viola! No, viola! Poi è il mio bruno! Arancione! Ma qual è il tuo? Nero! Brava! Adesso fa per me! Che colore è? Il maiale! Il maiale! Peppa Pig! È di colore rosa! Ma no, l'ho detto Peppa Pig! E vabbè, il maiale, il maialino è rosa! No! Quello così! Non così, su! Ah, quello così? E come fa il maiale? Quello messo così? E messo così invece come fa il maiale? Ah, fa uguale! Sa fare il maiale! Come fa il maiale, Emi? Cacca! 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 Ma no! Anche a me? Aspetta, tocca a lei! Cioè, ho il... Questo video fatto da Aurora è impressionante! Noi dobbiamo prendere una cosa! Cosa? Cosa? Che dobbiamo giocare? Non so, lo stai inventando tu o lo devo inventare io! I colori che si dice yellow! In inglese? Ecco! Allora, come si dice? Blu! 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 Sì, non c'è così! Eh sì, non c'è così! Come si dice rosso? In English? In English! Red! Brava! E che colore è? Il mantello di Frozen! Il mantello di Frozen è... Allora! Azzurro! Aspetta! Aspetta! Dobbiamo fare l'emoji! Ah, l'emoji? Sì! Veramente? Sì! Le devo fare io? Sì! Allora, prima facciamo quelle che vanno giù! Dislike! Ok, vai! Quindi prima gli dislike e poi gli like! Ok? Gli dislike faccio... Poi cosa devo fare? Uno dislike o uno dislike? Dislike! Ah, prima dislike! Ok! Devi fare i like che è giù! Uh! Quelle sì adesso! Adesso i like! 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 I lucky! I lucky! Questo è il like e questo è il lucky! Ciao lucky! Ti presenta like! Dai! Like è lì! Dai! Ehi! Ahahah! Mi hai detto sly! Ehi! Mi hai detto sly! Mi hai detto sly! Vabbè, diratti su! Ma è un emoji like o sly? E cos'è? Dislike! Ma... Dislike! Like! Tocca a te! Vai! Devi dirmelo tu a me! Devi fare un emoji... E' arrivata Noemi che sta mangiando! Quale devo fare di molly? Devi fare un emoji like! Quindi bella! Like! Questa è la faccia a quella che pensa, vero? Adesso quale? E tu me lo devi... Non l'ho capito! Alexa! Alexa! Alexa, ma che ti hai interpellato mai? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda! Ma infatti non ho fatto una domanda Alexa! Non ho fatto una domanda! Aurora, adesso mi devi fare un emoji... Slyke! Ah, la linguaccia! Slyke! 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 Ok, adesso un altro gioco! Decide Noemi! Altro gioco! Emi! Noemi, quale vuoi fare? Allora... Il drago! Il drago! Il drago! E com'è il drago? Quindi vuole ballare! Il drago balla! Quindi il canzone vuole il drago! Dobbiamo ballare! Tutti in piedi! Tutti in piedi! Su! La magina! Non è una mossa! Ma cos'è? Ragazzi dovete fare i miei passi! Dobbiamo fare i tuoi passi! Anche Lolo? Sì! Dai ragazzi facciamo i passi di Aurora! Vediamo! Vai! La motta! Dentro la motta! C'è c'è! Dentro la motta! Dentro la motta! Il drago! La motta! Ma che c'è? Adesso facciamo il gioco delle favole! Com'è il suo gioco delle favole? Che stai facendo! Già sto dormendo! Adesso racconto io una favola! Ladybug! Ladybug! Ok! La storia di Ladybug! C'era una volta Ladybug! Che andava da Chat Noir! Perché? Perché lei era innamorata di Chat Noir! Ma Chat Noir non lo sapeva che Ladybug era la sua compagnetta! Ladybug! Sono Ladybug! E io sono Chat Noir! Sì! Ciao amore! Sì! Io amo Ladybug! Tu chi sei Ladybug? Ecco è arrivata Ladybug! No sono io la vera Ladybug! Oh mamma mia! Allora è la coppia gemella di Ladybug! Io! Io! Tutte e due siete Ladybug! Quindi vediamo chi di voi ha il miracolo! Io ero la cattiva perché mi aveva fatto il cattivo! Lo stregone? Sì! Cattivone! Quello che vive con le farfalle! E allora io sono Chat Noir! E allora sei tu Ladybug! Eh ciao! Vedi che orecchini guarda come sono! Ma sono neri! Ma allora tu sei trasformata Ladybug! Ma allora Ladybug è Noemi! Ladybug vieni! Le dobbiamo sconviggere! Tu sei quella che è nera! Vieni Ladybug amore mio! Io sono Chat Noir! Abbracciauci! Ma dobbiamo sconviggere Ladybug la cattiva! Sì! Ti sconviggiamo così! Ti facciamo diventare una farfallina bianca! Ladybug! Ti sconviggeremo! Ok! Sei diventata adesso buona! Sei una farfalla bianca! Entra dentro la mia scatoletta! Sì! Io e Ladybug abbiamo vinto! Quindi ci baciamo! Adesso! Adesso io! Ero quella con i capelli tutti bianchi! La faccia bianca! Il corpo! Tutto di Miraculous! Io sono tutto sudato invece! E l'orecchini di nero! E quindi? Ero la cattiva! E io allora lo sai che cosa sono? Io sono Chat Noir! Sempre più potente! E sconviggerò i cattivi! Uno! Due! Tre! Ti ho sconvitto! Entra dentro la mia scatoletta! Sì! Io prendo l'acqua! Ma che c'è? Papi cambiamo gioco! Il gioco dei pupazzi! Dei pupazzi! Li prenderemo pescando con gli occhi chiusi! Se uno pescherà quello dei piccoli è la mia bambola e esce dal gioco! Ok! Comincio io? Sì però manca Noemi! Noemi ci sei? Sì! Farò tempo gli do un bacino a mia figlia! Ma no 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 che sei impazzita! Ma lei è impazzita! Ma perché sei fidanzata tu? Sì! Con chi sei fidanzata Aurora? Con Albetto! Oh mamma mia rivelazione importante! Io ancora? Aspetta Emy dobbiamo pescare qua! Prima papà! Prima comincio io! Allora quindi dobbiamo essere bendati! Te lo dico io! Ok! Allora... Eh ma io ci vedo! No papà non puoi smicciare! Fammi i numeri vediamo! Quanto è questo? Cinque! Era zero! Ah bene! E prendo questo! È mio! Ah! È mio è perso! Ma chi te l'ha regalato questo? Lo zio! Per San Valentino? Sì! Se qualcuno prende il gatto vince! Va bene! Tocca a Noemi! Noemi! Vai prendi uno! Vediamo! Brava hai vinto! Adesso lo devi mettere qua! Ti tappo gli occhi! Vai! Prendi il giocattolo! Il cagnalino della notte di Noemi! Adesso andaccio a papà! Papà prendi un pupazzo! Prendi un pupazzo! Dai! Questo! Ma chi è? Ma sei tu Emi? Alciù! Ma no! Ma ha preso a Noemi? Prendo! Prendo questo! Hai sbagliato! Ma Noemi! Ma sei sempre tu! Ma prendo sempre questo pupazzino! Va bene! Va bene ragazzi! Direi che questo video è finito qui! Aiuto! Aiutatemi! Ciao a tutti! Questo è il video di Aurora! Ricordatevelo! Non è roba mia! Mamma mia! Aiuto! Aiuto! Non è roba mia!